Forse si può dire che tutto parte da una tradizione che viene da lontano sul come in questa regione si è cercato di gestire l'uso dei farmaci in modo appropriato. E quindi si sono costruite delle strutture che storicamente erano quelle che una volta si chiamavano i prontuari terapeutici e che in realtà nel tempo si è spostato però l'attenzione non tanto sul prontuario come lista ma piuttosto sulla commissione terapeutica a livello regionale e anche a livello delle singole arrivaste che sono luoghi nei quali i farmaci vengono ad acquisire un posto in terapia. Quindi il prontuario come una lista commentata arricchita di una serie di strumenti che devono servire al clinico per fare un uso appropriato dei farmaci e per dare ad ogni farmaco il giusto posto in terapia. E questo noi lo facciamo non imponendo dall'alto una decisione ma con una condivisione nella commissione che è una commissione multidisciplinare sia a livello regionale sia a livello delle aree vaste con cui collaboriamo strettamente con un coordinamento sia per gli argomenti più importanti con dei gruppi di lavoro sempre multidisciplinari questo è fondamentale per noi in cui i professionisti si confrontano e quindi le nostre decisioni sono frutto di comunque una condivisione con il mondo dei professionisti. Credo che sia questo l'elemento assieme a un metodo che è sempre quello ed è comune nell'approccio delle singole patologie. Poi per esempio per quello che riguarda gli antibiotici l'agenzia si occupa poi di tutto quello che è il problema della gestione più specifica di tutto il problema dell'uso degli antibiotici. La commissione si preoccupa di mettere a disposizione i farmaci e di stabilire delle regole per il loro utilizzo che poi via via vengono declinate a livello delle commissioni locali e a livello delle singole realtà. Quando arriva un nuovo farmaco spesso non è collocato nella linea di terapia rispetto a quanto altro c'è di disponibile perché il mondo del farmaco a livello regolatorio è così fatto. Quindi noi invece attraverso i clinici cerchiamo di definire quel posto inserendoci in quelle che sono le regole stabilite anche a livello nazionale. Non è che noi prescindiamo da questo, però con i clinici possiamo anche arrivare a fare raccomandazioni più specifiche concordandole. Sono raccomandazioni, non sono mai obblighi, sono scelte strategiche che noi in qualche modo condividiamo. E quindi anche in questo caso c'è una piccola o grande parte di atteggiamento culturale e volontà al cambiamento, all'adesione? C'è la volontà di continuare ad usare tutte le risorse disponibili di tipo economico, di fare però questo perché noi non abbiamo nessun bisogno di risparmiare. Noi dobbiamo consumare, spendere tutte le risorse economiche che abbiamo cercando di farle in modo appropriato. Quindi sfruttando al massimo le risorse ma facendo questo nel modo più appropriato per i pazienti e quindi dando ad ogni farmaco il suo posto in terapia.